L'8 dicembre è tradizionalmente il giorno in cui si fa l'albero di Natale nelle case. È una tradizione ancora in voga per le famiglie cittadini ravennati? Sì. Rosso. Tradizionale. Rosso e bianco. Normale, con le palline, i cuoricini bianchi, argento, ci sono degli angioletti, dei gufetti, semplice. Rosso e oro, tradizionale, e con la casina del presepio, sotto. Tradizionale, rosso e argento, l'abbiamo fatto, sì, rosso e argento. E tradizionale, con tutto rosso, blu, tutto quanto. Sicuramente lo sta facendo mio marito in questo momento, però tradizionale come sempre, classico, lucine, palle di tutti i colori, normali, in vetro, disegnate, lavorate, stilizzate, insomma, tranquillo, un albero tranquillissimo. Non l'ho fatto, però lo farò perché me l'ha regalata un'amica e diciamo è moderno, poche decorazioni, ecologico, non mi piacciono gli alberi veri che secondo me sono un ammassare il nostro ambiente, quindi mi piacciono le cose ecologiche. No, l'albero lo ritengo del tutto inutile. Io non ancora perché, tipo, da noi si è un po' passata la tradizione, più quando c'era mia nonna, facevamo l'albero di Natale, queste cose erano più belle anche da fare, però credo di farlo quest'anno. Grazie. Grazie.